mamma mia come buono questo formaggio bisognerebbe fargli un museo ecco più o meno è andata così quando ho scoperto che a soragna esiste il museo del parmigiano reggiano e ho pensato di portarvi ci venite con me quello che trovo incredibile è che da più di mille anni è un prodotto che viene realizzato con soli tre ingredienti latte caglio e sale io non credo che esista un qualche cosa di simile in tutti gli altri prodotti soprattutto con un risultato così importante così eccezionale forse io sarò di parte perché sono un amante del formaggio parmigiano reggiano amante al punto da non riuscire a resistergli mai ma proprio mai nemmeno in diretta televisiva oggi vi ho portato come vi dicevo il museo del parmigiano reggiano dove incontreremo filippo che è il responsabile che meglio di me naturalmente ci racconterà la storia i cimegli l'aneddoti legati a uno dei formaggi più famosi al mondo anzi diciamola così al formaggio più buono del mondo eccomi qua ciao filippo ciao fabrizio benvenuto avrai notato arrivando che la forma in questo edificio è una forma circolare ricorda quasi la prima cosa che ho pensato parmigiano e questa caratteristica lo rende unico fra anche dei difici storici perché normalmente nell'area parmese erano tutti quadrangolari nell'area reggiana poligonali questo è l'unico forse per un vezzo del suo costruttore principe casimiro menilupi che ne affidava la costruzione al suo architetto che scusami ne aveva diversi da prinsa era un principe ma da quanta che non si produce più qui dagli anni 70 sono 50 anni che si sente ancora l'odore del latte giuro si sente l'odore del latte non spruzzano degli aromi diceva filippo che ha una cosa curiosa da dirmi se c'è una cosa che piace a me sono le curiosità quindi per piacere filippo racconta siccome nel caseificio non si produceva solo il formaggio ma anche il burro chiaramente con la scrematura no del latte del latte della sera e adesso noi siamo abituati a utilizzare il burro come un prodotto di poco costo se vogliamo non dimentichiamoci che fino all'inizio del novecento era effettivamente l'unico grasso insieme al lardo per tutte le preparazioni della cucina quindi era una preparazione che aveva il suo costo diciamo che nella bassa parmese non è cambiato molto perché le nonne che usano l'olio di oliva in cucina sono ancora poche fortunatamente per evitare che qualche gardone arrivasse e potesse rubarsi qualche ditata di burro con questa spatola tutta zigrinata si passandola super passandola sulla superficie la si rendeva tutta irregolare per cui se arrivava qualcuno si vedeva una specie di antifurto la prima attestazione documentale la vediamo in un registro dell'archivio di stato di genova registro portuale dove nel 1254 leggiamo che erano in transito queste 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 forme di caseus parmensis questa è della metà del seicento e la cosa molto interessante è che vediamo una una persona che tiene in mano mezza forma quindi non era 40 kg no le forme erano più piccole sono riprodotte in questi modelli erano più piccole perché si lavorava in una sola giornata una quantità minore di latte con una scelta precisa di aumentare la dimensione in modo da far da rendere più favorevole il rapporto tra la crosta e la pasta sostanzialmente è tutto molto chiaro ma ci vuole sempre qualcuno che te le dica queste cose posso dirlo io ci provo è per il burro no questa è una rotella che si arriva per agitare non è a caso guardo fardi wild su facebook tutti i giorni usano una cosa simile per fare il burro vabbè comunque questo sarebbe comunque per il parmigiano la rotella si si serviva per agitare il latte e le due diverse versioni quella più recente quella più antica del cosiddetto spino cioè lo strumento che viene viene utilizzato per rompere la cagliata che ora rompere la cagliata significa concretamente mandar giù la grana far depositare sul fondo la grana che si forma grazie al caglio grazie al caglio grazie al caglio era spontanea e questa è una piccola parte dell'esperienza di visita che si può fare bella bella però adesso Filippo mi perdonerai è due ore che mi parli di parmigiano raggiano dico poi potresti farmelo anche assaggiare cosa ne pensi va bene dai venite che allora aspetta spengo tic e andiamo grazie a tutti